Abbiamo già cominciato a vedere con un video apposito il pensiero di John Rawls, importantissimo pensatore politico della seconda metà del Novecento. Abbiamo presentato gli inizi del suo libro più importante, Una teoria della giustizia, e abbiamo elencato i modi tramite cui, secondo Rawls, possiamo cercare la giustizia nella nostra società. Abbiamo parlato della posizione originaria, abbiamo parlato del velo di ignoranza e di altre questioni di questo tipo. Oggi però dobbiamo entrare maggiormente nel dettaglio, perché dopo aver posto le premesse, dobbiamo arrivare a quelli che, secondo Rawls, sono i due principi base di ogni società giusta che devono guidare, ogni società giusta applicando i metodi che abbiamo elencato l'altra volta, arriveremo a qualcosa di un po' più concreto e chiederemo anche che idee di mondo ha Rawls, che idee di società, che idee di politica. Cominciamo subito dopo la sigla, andiamo a cominciare. Un socio di caffè nella solita tazza con la scritta, andiamo a cominciare, che c'è in apertura di ogni video, con me ci sono sempre anche loro in apertura di ogni video, Topolino, Tostoi, Batman, D'Andrea, il nostro peloso, il cuscino, quest'altro mostriciatolo qua. Poi ci sono io, lui mi chiamo Armando Ferretti, sono un insegnante di storia e filosofia, insegnore al liceo scientifico di Rovigo, e dal marzo del 2020, quindi ormai tre anni quasi, su questo canale realizzo video spiegazioni di storia, di filosofia e di educazione civica, che ripercorrono a tratti il programma che si fa alle superiori, a tratti quello che si fa invece all'università in queste discipline, e però ogni tanto offrono anche qualche approfondimento, qualche cosa che non si fa direttamente alle superiori all'università, ma comunque si lega a questi ambiti e può essere molto molto interessante, almeno spero, almeno a me interessa, spero interessi anche a voi. Oggi parliamo, come già anticipato nella premessa, di John Rawls, importante filosofo americano, morto da qualche anno, però forse il più rilevante filosofo pensatore della politica dagli anni 70 in poi del 900. Il suo libro fondamentale, l'abbiamo citato l'altra volta nel primo video, che trovate linkato in descrizione se ve lo siete persi, è una teoria della giustizia in cui lui si pone proprio questa domanda, come facciamo a capire quando una società è giusta, secondo quali criteri, quali regole, quali principi questa società deve essere ordinata, perché sia una società bene ordinata. Certo, ci sono tante società nel mondo, a volte funzionano meglio, a volte funzionano peggio, ecco, quando una società funziona bene, segue un principio o dei principi di giustizia, perché alla fine lui dice lo scopo di ogni vivere associato è garantire una qualche forma di giustizia. Ripeto, certi stati ci riescono meglio, certi stati ci riescono peggio, certi stati non ci riescono per nulla, ma l'aspirazione a cui dobbiamo tendere è la giustizia. Abbiamo detto proprio l'altra volta come ogni sistema filosofico deve tendere verso la verità, cercare di raggiungere la verità, e se non la raggiunge, se ci si rende conto che non fa viaggiare verso la verità, un sistema filosofico va abbandonato, così deve essere anche, secondo Rawls, per quanto riguarda i sistemi politici. I sistemi politici devono viaggiare verso la giustizia, devono tendere verso la giustizia. Se non lo fanno, vanno modificati, cambiati, scartati. E allora abbiamo detto, Rawls si impegna molto anche per attaccare l'utilitarismo che è quella dottrina, come abbiamo detto era dominante, lo è in parte ancora oggi nella scena etica americana, e poi soprattutto per dirci come fare a individuare dei principi di giustizia. E alla fine abbiamo parlato proprio l'altra volta della posizione originaria e del velo di ignoranza, due tecniche abbinate che permettono, secondo Rawls, di sfogliarsi un po' dei propri interessi personali e valutare le cose in maniera più obiettiva, più incondizionata, per usare una terminologia kantiana, più appunto categorica. Abbiamo detto, ve lo ricordo brevemente, se è un po' che non avete visto, che avete visto quel video, la posizione originaria e velo di ignoranza ci impongono di chiedersi che tipo di società vorremmo se non sapessimo quale posizione occuperemmo in quella società. Esempio, io oggi sono un insegnante della piccola media borghesia, tutto sommato, come tutti gli insegnanti in Italia, nel nord Italia, in una zona magari non ricchissima nel nord Italia, ma comunque discreta del nord Italia, il Polesine. Ora, io ho una posizione che è particolare, quindi a me fanno comodo alcune cose e danno problema a altre cose, alcune leggi mi vanno a mio vantaggio, alcune altre leggi vanno a mio svantaggio. Pertanto, quando mi trovo a giudicare le leggi, la direzione che la società sta prendendo e così via, la giudico dal mio punto di vista che è sempre un po' parziale e condizionato. Se volessi provare a giudicare questa società in cui vivo da un punto di vista invece incondizionato, dovrei provare a togliermi da questa situazione contingente e a pormi al di fuori di questa situazione appunto con un velo d'ignoranza. Cioè, puniamo che io debba nascere, facciamo questo esempio, e però non sappia se nascerò appunto in una società come quella italiana di oggi o come la società, non so, del Bengala, del Bangladesh o del Madagascar o dove. Poi, anche in Italia, non sappia se nascerò a Rovigo, a Milano, a Napoli, a Crotone, a Torino o dovunque. Non so se nascerò da una famiglia di laureati o da una famiglia di gente poco istruita, se nascerò in una famiglia benestante, una famiglia povera, eccetera. Allora, se io dovessi valutare questa società senza sapere in quale livello di questa società mi piasserò, come la vorrai questa società? E allora, Rovice dice, in questo modo, facendo questa sorta di esperimento mentale, noi potremmo valutare più obiettivamente la società, dove va, eccetera. Considereranno che potremmo sì diventare ricchi miliardari milanesi, ma potremmo anche diventare poveri nullatenenti, non so, di Lovigo, che è una zona depressa d'Italia, o del Molise, o di dove volete voi. Ok? Quindi, in ogni caso, valutiamo le situazioni sotto diversi punti di vista e così riusciremo a essere più obiettivi. Questa era la premessa, quello che è molto riassunto, abbiamo visto l'altra volta, ma oggi vediamo come Rovice tenta di applicare questi metodi di indagine alla società e dice, guardate, se io provo a usare questa tecnica della posizione originaria e del velo d'ignoranza, secondo me emergono due principi che dovrebbero guidare ogni società. Poi, sono principi necessariamente un po' vaghi, perché lui dice, sono principi che tracciano un po' la via, la strada, in linea generica. Poi, caso per caso, bisogna la vedere, ovviamente, cioè, nel senso, sono principi di equità, di giustizia, che possono essere applicati all'Italia del 2023, possono essere applicati all'Austria del 1950, possono essere applicati, cioè, in situazioni diversissime. Poi, però, concretamente, l'Austria del 1950 aveva leggi diverse dall'Italia del 2023, eccetera. Poi, quando si va a concretizzare ulteriormente, bisognerà fare i conti con la realtà, con le situazioni, eccetera. Però, intanto, due principi generali che possono darci la via. Rovice, questi due principi, l'individuo è in vari modi, proprio li esplicita anche in forme diverse, ma sono sempre due che tornano con qualche variazione sul tema. Ve li mostro a schermo, li commentiamo, ve li mostro in una versione un po' ridotta, ma il senso è quello per arrivare al solo. Vediamoli. Il primo principio dice questo. Ogni persona ha un uguale diritto al più esteso sistema di libertà fondamentali. E il secondo principio. Le ineguaglianze economiche e sociali sono giuste solo se producono benefici compensativi per ognuno e se le cariche e le promozioni sono aperte a tutti. Questi sono i due principi, adesso commentiamoli. Partiamo dal primo principio. Ve lo rileggo, così lo commentiamo. Ogni persona ha un uguale diritto al più esteso sistema di libertà fondamentali. Questo intanto è un principio tipicamente liberale, non è una cosa nuovissima. Una cosa italiana l'aveva detta anche Locke. Se pensate a Locke che è vissuto a fine 600, quindi tre secoli prima rispetto a Rose, aveva detto una roba molto molto simile. Cosa diceva Locke? che diceva che ogni persona ha diritto a tante libertà quanto è disposto a concederne agli altri. Questo già nello stato di natura, secondo Locke. E Rose sta dicendo più o meno la stessa cosa. Ogni persona ha diritto a tutte le libertà fondamentali che è possibile garantire anche agli altri. Ogni persona ha un uguale diritto al più esteso sistema di libertà possibili. Cioè, vuol dire che io e te, io e tutti gli altri, abbiamo lo stesso diritto alla libertà il più esteso possibile. Vuol dire anche che la mia libertà è tanto estesa fin tanto che non limita la libertà altrui. Visto che il diritto deve essere uguale, dice ha uguale diritto, quindi vuol dire che la mia libertà deve essere uguale a quella di tutti gli altri. Dobbiamo avere tutti un'uguaglianza di libertà. Ora, il più esteso possibile vuol dire che la mia libertà arriva fino a dove non limita la libertà altrui. E questo è il principio carri nel liberalismo. L'aveva detto Locke, lo riprenderà Volter, l'illuminismo. Non è nulla di nuovo sotto il sole da questo punto di vista. Quindi, fin qui, Rossi sta dicendo cose abbastanza tradizionali dal punto di vista del liberalismo. Faccio notare una cosa. Questo principio è in linea con quello che dicevamo l'altra volta? In parte sì. Da solo non basta, infatti i principi sono due. Ma in parte sì. Dicevamo l'altra volta che il problema che Rossi trova ad affrontare e che hanno affrontato tanti filosofi politici è quello di far convivere, in un certo senso, libertà e uguaglianza. Perché la giustizia sente come valori sia la libertà che l'uguaglianza. Ora, questo principio garantisce la libertà. La libertà è un valore, lo dice chiaramente, e deve essere il più estesa possibile, a patto che questa libertà sia garantita in ugual misura a tutti. Quindi c'è sia la libertà che l'uguaglianza, ovviamente, in questo principio. Però, attenzione, ci sono alcune cose da notare. Prima cosa, qui la libertà viene posta come un, direi, proprio dovere, in maniera deontologica, la maniera kantiana di intendere questa parola. È un dovere. Bisogna che ogni società garantisca una libertà la più estesa possibile, in ugual misura a tutti. Bisogna che, si deve che, deve, ogni società deve, ci potremmo anche riformularlo così, con la parola deve come piaceva a Kant. Perché questo è un dovere. Non è un fine, non è un vantaggio, meglio, è un fine, ma è un fine disinteressato. Non è che lo si fa per ottenere qualcos'altro, non è un mezzo. Questo si ricorda anche quello che dicevamo l'altra volta. L'altra volta dicevamo che Raw si attacca all'utilitarismo, perché l'utilitarismo è disposto, spesso, almeno in certe situazioni, a scendere a patti in vista del bene più grande. Esempio, dicevamo l'altra volta, un utilitarista potrebbe ritenere giusto comprimere i diritti di una parte per garantire un vantaggio maggiore per la maggioranza della popolazione. Visto che l'utilitarismo valuta il bene complessivo volendo la somma e le differenze tra i beni individuali, in fondo, se la maggioranza della popolazione gode di un grande vantaggio e una minoranza gode di uno svantaggio, questo può essere ritenuto buono per l'utilitarista. Allo stesso modo potremmo anche applicare questo principio utilitarista anche alla libertà. Allora, un utilitarista potrebbe anche dire è giusto limitare la libertà di un piccolo gruppo per garantire maggiore libertà agli altri, perché il conto di vantaggi e svantaggi, di benefici e deficit, sarebbe comunque positivo. E quindi, se il saldo è positivo, è buona cosa. E quindi sarebbe giusto, secondo un utilitarista, limitare la libertà altrui. Secondo, invece, Rawls, questo è sempre ingiusto. Questo principio non dice si deve avere la libertà se a patto che, non è un principio condizionato, non è un imperativo ipotetico condizionato, è una legge deontologica. Indipendentemente da quello che avviene, bisogna garantire uguale libertà alla massima possibile a tutti. Quindi, è un dovere. Quindi, anche se garantire la massima libertà a tutti fosse svantaggioso per la società, fosse dannoso dal punto di vista economico, eccetera, andrebbe comunque fatto. Qui Rawls sta ribadendo che questo è un principio inderogabile, praticamente, no? Cioè, sta dicendo, non bisogna guardare agli effetti delle scelte, ma alla loro giustezza, alla loro giustizia. Quindi, la libertà è un valore in sé, indipendentemente poi dagli effetti che ha, ma è un valore in sé. E allora, noi dobbiamo, come società, garantire la maggior libertà possibile a patto che, ovviamente, la mia libertà non intacchi la libertà altrui. Quindi, che ci sia reciprocità, avrebbe detto Locke, che ci sia eguaglianza di libertà. Quindi, già qui si vede una netta differenza rispetto all'approccio utilitarista che era dominante all'epoca. Ovviamente, quando si parla di libertà, quali libertà, di che libertà stiamo parlando? Ovviamente, tutte le libertà fondamentali, libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di opinione, libertà di impresa, anche, libertà di scegliere dove andarsi a curare, di scegliere quale scuola frequentare, libertà di insegnamento, insomma, tutte le libertà che ci vengono in mente, politiche, sociali, ma anche economiche. Quindi, questo, Rolls la vede in maniera abbastanza ampio. Ovviamente, anche libertà dall'arresto arbitrario, libertà dal potere, insomma, le solite, classiche libertà che già abbiamo visto, libertà di avere proprietà privata, e così via. Liberalismo puro. Faccio notare un'ultima cosa. Questo è il primo principio, cioè un secondo, ma è il primo, adesso vedremo anche il secondo, l'abbiamo già accennato, ma lo vedremo meglio. Il primo non è primo solo per caso, è primo perché è premessa indispensabile al secondo, nel senso, questo primo principio, che la libertà deve essere il più esteso possibile a patto di non danneggiare la libertà altrui, è in un certo senso la bussola del procedere di ogni società. È un principio inderogabile. Vuol dire anche che il secondo principio non può intaccare il primo. Il primo viene prima perché è precedente anche, in un certo senso. Vedremo che il secondo corregge parzialmente il tiro, ma non può limitare la libertà come sancito nel primo. Cioè, prima c'è la libertà, poi c'è il secondo principio, quindi la libertà è intaccabile. Questo principio deve essere la prima cosa da realizzare in una società. Massima libertà possibile, a patto che questa libertà sia equa, cioè valga per me, valga anche per gli altri, e non intacchi la libertà altrui. Questo può essere un problema, perché non se ne rende conto. Garantire la massima libertà possibile vuol dire, è vero partire da una condizione di partenza uguale, in fondo. Io ho la libertà politica, ce l'hai anche tu, io ho la libertà di parola, ce l'hai anche tu, io ho la libertà di fare impresa, ce l'hai anche tu, io ho la libertà di, non so, possedere delle cose, ce l'hai anche tu. Bene. Ma si rende conto benissimo, Rosso, che questa libertà, diciamo così, di possibilità, questa uguaglianza di possibilità, poi si scontra con la realtà delle cose. Per cui, avere pari opportunità, mettiamola così, significa anche garantire disuguaglianze in prospettiva. Faccio un esempio concreto per capire di cosa sto parlando. Quando io dico che tra le libertà fondamentali c'è anche la libertà di impresa, quindi c'è la libertà che io posso ammettermi di fondare un'azienda, usare le mie competenze, le mie capacità e farle fruttare, guadagnarmi da vivere. Bene. Questa libertà è garantita, perché è una libertà, la posso concedere agli altri, quindi, vi ho detto, ognuno ha tante libertà, il più estese possibile, tante quante può garantirne agli altri. In questo caso, io voglio questa libertà di poter fondare un'impresa e mettere a frutto le mie capacità e voglio concederla anche agli altri. La mia libertà non l'ede, la libertà altrui di fare la stessa cosa. Benissimo. Allora, questa è una libertà garantita. Ma se io ho la libertà di fondare un'azienda e far soldi, alla fine, cosa succederà? Che questa libertà ce l'hanno tutti, ma non tutti riescono a farla fruttare in ugual misura. Per cui, magari io sono un genio, sono Elon Musk, che ne so, ammesso che sia un genio, fondo la società, faccio un sacco di soldi e divento ricchissimo. Il mio vicino di casa ha la stessa libertà mia, anche lui può fondare un'azienda, può mettere a frutto le sue competenze, solo che lui non è un genio e quindi mette in piedi un'azienda, fallisce. E purtroppo le cose gli vanno male. È chiaro che questa libertà di partenza, insomma, potenzialmente entrambi possiamo fare, poi, all'altro pratico, uno riesce a fare e l'altro no, obiettivamente. Quindi la libertà genera, dice Raul, spesso disuguaglianza perché l'uguale libertà di fare le cose vuol dire che alcuni ci riusciranno a farle e alcuni no. Quindi, attenzione, libertà, nel senso uguale libertà, non vuol dire uguaglianza vera e propria, non vuol dire eguaglianza totale di cittadini, anzi, tutt'altro. La libertà genera disuguaglianza, secondo cui il processo che dicevamo l'altra volta della difficoltà di far convivere libertà e uguaglianza. Si rende conto benissimo anche Raul, che è difficile mettere assieme generano, tendono a generarsi disuguaglianze. Abbiamo detto che c'è, ad esempio, la disuguaglianza anche naturale del fatto che qualcuno per sua fortuna nasce sano, forte, non si ammala mai, qualcuno nasce debole, si ammala sempre e soffre di malattie incredibili. Allora, anche lì abbiamo tutt'entami la libertà di andarsi a curare in un ospedale, ma io non avrò mai bisogno, tu dovrai andarci miliardi di volte, capite? Le libertà uguali spesso non alleviano le disuguaglianze o al limite addirittura le creano. Allora, le libertà non bastano, solo il primo principio. Solo il primo principio è anche inderogabile, ogni società deve avere come obiettivo principale deve far prevalere questo primo principio, la libertà prima di tutto. Però poi questo principio non basta perché da solo genera disuguaglianze, serve anche un secondo principio, l'abbiamo letto prima adesso lo commentiamo. Allora, vediamo questo secondo principio, lo rileggiamo perché abbiamo letto qualche minuto fa, ve lo rimostro anche a schermo, dice questo, le ineguaglianze economiche e sociali sono giuste solo se producono benefici compensativi per ognuno e se le cariche e le promozioni sono aperte a tutti. Allora, attenzione qua, c'è la parte più originale probabilmente del pensiero di Rawls perché il primo principio vi ha detto sì, magari detto un po' meglio con maggiore attenzione a alcune cose però era un principio già enunciato da altri filosofi e questo invece è nuovo. qui si trovano condensati in realtà due principi secondo Rawls lui stesso li chiama così che lui chiama principio di differenza e principio di riparazione. Cosa intende dire Rawls? Rawls dice questo, attenzione, gli uomini non nascono uguali, non sono uguali. Sarebbe giusto che ci fosse uguaglianza, abbiamo detto prima nel caso della libertà che ci dovrebbe essere uguaglianza di libertà, però la natura non ci crea uguali, ci crea in maniera casuale apparentemente molto diversi tra di noi. Ci sono persone che nascono sane, molto sane, molto forti, in grado di affrontare le malattie senza troppi problemi, persone che nascono invece fragili e non in grado di affrontare la stessa maniera le malattie. È giusta questa cosa? No, non è giusta secondo Rawls perché ciò che è giusto abbiamo detto è in fondo anche reciproco quindi una cosa che vale per uno dovrebbe valere per l'altro ci dovrebbe essere un'uguaglianza naturale tra gli uomini ma così non è si nasce diversi dal punto di vista della salute ma non solo dal punto di vista della salute se ci guardiamo bene si nasce diversi anche dal punto di vista dell'intelligenza. Prima vi facevo l'esempio dell'apertura di un'azienda la nostra libertà ugualmente ripartita in tutti ci permette a me e al mio vicino di aprire e entrarmi un'azienda io sono un genio lui no io faccio i soldi lui no lì deriva non dalla diversità della libertà ma dalla diversità delle capacità e anche qui bisogna ammetterlo gli uomini nascono diversi da questo punto di vista nascono diversamente anche fortunati bisogna ammettere anche questo che la fortuna in qualche misura esiste e quindi c'è chi gli va tutto bene chi gli va tutto male e lì è una cosa ingiusta noi stessi tutti la capiamo che è ingiusta ma accade ed è inevitabile che accada quindi differenze differenze di intelligenza differenze di salute differenze di opportunità c'è chi nasce ricco e chi nasce povero queste sono differenze importanti nella vita che hanno il loro peso e anche queste sono differenze che nascono differenze che poi sono anche figlie della libertà esempio se io nasco ricco e il mio vicino di casa nasce povero lì può anche darsi che questa differenza sia dovuta alla libertà cioè nel senso i miei genitori liberi hanno fatto fruttare i loro soldi i genitori del mio vicino liberi non li hanno fatti fruttare io nasco ricco perché la libertà ha generato ulteriori disuguaglianze quindi Rawls si rende anche conto che se noi volessimo anche solo ipoteticamente pareggiare i conti completamente finiremmo per limitare la libertà vi ricordate l'altra volta che abbiamo detto che ad esempio proprio Orkheimer sostiene che libertà e uguaglianza non possono andare insieme perché più garantisci l'una meno garantisci l'altra e viceversa e Rawls in parte è dello stesso avviso in parte nel senso che libertà genera in qualche misura anche disuguaglianza e la natura genera in qualche misura disuguaglianza quindi c'è una differenza naturale tra gli uomini per questo prima parlavo del principio di differenza e questo secondo principio di giustizia lo riconosce dice attenzione c'è questa differenza vi ho detto le inuguaglianze economiche e sociali sono giuste quindi non sta dicendo che siano ingiuste sempre si possono essere disuguaglianze economiche e si possono essere disuguaglianze sociali non sono sempre ingiuste per sempre e comunque sono giuste solo se cioè normalmente le riteniamo ingiuste ma ci sono dei casi in cui possono essere giuste e quindi possono essere accettate perché in questo mondo si garantisce anche la libertà ovviamente quando è che sono giuste se producono benefici compensativi per ognuno cosa vuol dire sto discorso vuol dire pensare al velo di ignoranza appunto e a posizione originale di cui parlavamo prima poniamo il caso che io non sappia dove nascerò come nascerò quando nascerò e nella famiglia di chi nascerò potrei nascere figlio dei ricchi figlio dei poveri potrei nascere al nord al sud oggi ieri eccetera ora se io sono un essere razionale che valuta razionalmente le prospettive e appunto dico non so dove nascerò cosa vorrò che tipo di società vorrò vorrò una società che ad esempio nel caso in cui nascessi libero e forte e ricco mi garantisse di continuare a essere ricco quindi che mi garantisse la libertà di impresa di iniziativa eccetera ma anche una società che se io nascessi povero mi garantisse di non essere umiliato per terra eccetera ma che mi desse almeno una mano io guardate non solo potrei nascere povero potrei nascere stupido il velo di ignoranza non mi fa sapere come nascerò se nascerò ricco o povero ma se nascerò sano o malato intelligente o scemo e obiettivamente potrebbe anche darsi che io nasca povero stupido e ignorante e orfano eccetera allora considerando che potrei nascere anche in questa situazione tragica cosa mi converrebbe che la società facesse di me mi converrebbe che la società mi desse una mano mi cercasse di compensare le sfortune avute dalla vita ovviamente uno che nasce in situazioni del genere è sfortunato e la società non deve solo stare a guardare queste sfortune secondo Rhodes secondo lui dice il nostro ideale di giustizia ma la società deve cercare di compensare per questo vi dicevo prima c'è un principio di diversità di differenza pertanto siamo diversi ma anche un principio di compensazione cioè la società deve intervenire per cercare di compensare questi divari quindi i divari esistono bene ci sono sono un dato di fatto sono anche in parte naturali perché forse il denaro non è naturale però la salute sì che è naturale sono divari che ci sono sono anche naturali ma ma una società giusta è una società dice Rhodes e questo lo ammetterebbe chiunque secondo lui se si ponesse nel col velo di ignoranza eccetera una società è giusta nella misura in cui tenta di compensare questi divari tenta di alleviare queste differenze pertanto cosa vuol dire all'atto pratico cosa sta dicendo Rhodes come si fa ad alleviare queste differenze beh ad esempio se tu nasci ricco devi essere tassato e devi essere tassato più di uno che nasce povero perché le tue tasse devono servire a fornire a chi è povero un aiuto questa è l'idea quindi è giusta la differenza tendenzialmente no tranne nel caso in cui questa differenza non garantisce benefici compensativi cioè è giusto che qualcuno nasca ricco e qualcuno nasca povero no che non è giusto miseroso tranne nel caso in cui chi nasce ricco è disposto a dare una parte della sua ricchezza in tasse che possono aiutare sostenere far risolvere la miseria di chi è nato povero capite è giusto che tu sia intelligente e quell'altro sia scemo no che non è giusto potevi essere tu quello scemo sei nato lì sei nato intelligente sei stato fortunato ma potevi nascere scemo secondo il velo l'ignoranza e allora devi fare in modo che questa differenza di intelligenza non sia fine a se stessa può essere giusta solo la misura in cui tu usi la tua intelligenza per compensare l'ignoranza altrui quindi ad esempio fai qualcosa con la tua intelligenza per creare non so un macchinario che renda migliore la vita di chi non è abbastanza intelligente o doni la tua intelligenza a chi non è abbastanza intelligente è giusto che qualcuno nasca con miliardi di opportunità nelle migliori scuole in città e chi altro invece nasca senza nessuna opportunità no che non è giusto a meno che tu che nasci nella città che ha mille opportunità non usi questo tuo vantaggio per compensare lo svantaggio altrui quindi ad esempio che ne so ipotizzo tu sei nato hai voluto frequentare le migliori scuole poi vai a insegnare in una scuola di periferia per restituire un po' quello che hai avuto in un certo senso l'ottica è questa l'ottica è quella della compensazione in un certo senso anche della restituzione della fortuna c'è chi nasce più fortunato chi nasce più sfortunato ma chi è più fortunato in una società giusta fa qualcosa per sfruttare anche vogliamo dirla così sfruttare la sua fortuna a beneficio però anche di chi è sfortunato capite? quindi la società che immagina Rousse in ultima istanza che società è? una società dove le persone sono libere di fare impresa di svilupparsi di arricchirsi di diventare più intelligenti più sane eccetera ma usano questa loro libertà che è sempre garantita dal principio base il primo principio detto è la libertà quella deve esserci sempre usano questa libertà che a loro è garantita anche per far per generare delle ricadute positive su chi ha quella libertà ma per molti motivi non è in grado di sfruttare quella libertà capite? questo è un principio di compensazione che secondo lui dà giustizia all'ingiustizia mi seguite? perché nascere ricchi e nascere poveri è un'ingiustizia nascere sani nascere malati è un'ingiustizia eccetera però compensando in questo modo anche quella ingiustizia naturale o generata dalla libertà o comunque che c'è viene reinserita nell'ambito di un sistema più giusto attenzione perché questo discorso di Rawls questo secondo principio in particolare che è l'elemento più originale della sua riflessione è una serie di effetti a cascata che vale la pena di analizzare nel dettaglio su cui vale la pena soffermarsi perché ci aiuta a capire anche l'idea di società che Rawls ha in mente io ho detto bisogna compensare le differenze naturali questo vuol dire anche secondo Rawls che ogni società dovrebbe destinare un maggior numero di risorse a chi è più svantaggiato dovrebbe tenere d'occhio soprattutto chi è svantaggiato più che non chi è avvantaggiato facciamo un esempio concreto per esempio proprio di Rawls ad esempio se io ho un bilancio statale e devo decidere dove ripartire i soldi e mettiamo che c'è una quota destinata all'istruzione secondo questo secondo principio io dovrei dare più soldi alle scuole di periferia alle scuole più svantaggiate e meno risorse a chi è avvantaggiato a chi invece è nelle scuole dei quartieri più ricchi o nelle scuole dove ci sono i risultati scolastici migliori cioè dovrei versare le risorse nelle scuole con risultati scolastici peggiori e molti meno soldi in quelle che ha risultati scolastici migliori perché dice Rawls chi ha risultati scolastici migliori parte già avvantaggiato no ha un livello probabilmente di intelligenza di capacità di opportunità più alto che ha risultati peggiori parte dal livello più basso è maggiormente in difficoltà è lo svantaggiato che va risollevato bisogna compensare la differenza che si è creata fino ad adesso quindi destiniamo i bilanci in questo modo questo è un principio un'applicazione del principio che va in netto contrasto con quello che era invece il principio dominante all'epoca quando Rawls afferma queste cose perché dal punto di vista anche economico dominava la scena e in parte la domina ancora oggi in certi settori dell'economia o del pensiero un principio completamente diverso che è il cosiddetto principio di efficienza il cui diciamo così l'ispirazione principale si attribuisce a Vilfredo Pareto un economista tra l'altro italiano di origine di lingua italiana vissuto vari decenni prima cosa diceva il principio di efficienza attribuito a Pareto il principio proprio di Pareto a volte ricordato così che bisogna allocare le risorse dandole soprattutto a chi può farle fruttare meglio sostanzialmente cioè a chi è più efficiente nel caso della scuola ad esempio il principio di efficienza ci direbbe no devi dare i soldi a chi disfrutta meglio cioè le scuole che ottengono risultati migliori perché così quelle scuole continueranno a ottenere risultati sempre migliori e miglioreranno l'efficienza garantendo effetti positivi per tutti quindi quando tu devi decidere hai di pochi soldi devi decidere dove darli li dai ai settori anche nelle aziende nelle società nelle imprese quelli che rendono meglio e tagli via quelli che rendono peggio no come si fa nelle aziende ancora oggi hai poche risorse li destini ai settori che sono in più rapido sviluppo e casomai licenzi la gente dai settori che sono più in difficoltà principio di efficienza per ridurre gli sprechi ridurre i rami secchi come si dice nelle aziende si fa così allora questo principio di efficienza secondo Rawls invece non va applicato nelle società giuste genera effetti ingiusti anzi non è l'unico Rawls a sostenerlo ci sono vari pensatori che proprio in quegli stessi anni negli anni 70 80 criticano questo principio di efficienza uno tra i pensatori principali che criticano questo principio è proprio Shen abbiamo citato l'altra volta l'economista filosofo d'origine indiana ormai americanizzato tra l'altro collega proprio di Rawls che anche lui esprime una critica a questo principio di efficienza sostenendo che sostanzialmente il principio di efficienza non funziona c'è un articolo famoso di Shen proprio nel 1970 che critica che mostra i limiti del sistema parietano cioè del sistema delineato dal principio di efficienza Rawls riprende quelle idee che anche Shen aveva già esposto applicandole però ovviamente non più in campo economico quanto piuttosto in campo etico in campo sociale in campo etico in campo politico noi non dobbiamo seguire il principio di efficienza cioè dare più soldi a chi rende meglio e darne meno a chi rende peggio dare più ai soldi anche risorse attenzioni spinte a chi rende meglio e meno a chi rende peggio ma dobbiamo fare esattamente il contrario il principio di reparazione è l'esatto opposto del principio di efficienza cioè dobbiamo dare più attenzione a chi va peggio quindi se noi lo applicassimo all'interno dell'azienda invece di destinare i fondi a chi rende bene dovremmo destinare tutti i fondi ai settori che sono in crisi nel caso sociale della società ad esempio nelle scuole destinare attenzione risorse iniziative a chi va peggio e non a chi va meglio nel caso poi sociale in senso ampio destinare più risorse ad esempio ai malati agli ultimi a chi è rimasto indietro in qualche misura questo secondo Rawls crea una società giusta una società equilibrata una società in cui si cammina insieme anche in cui si verrebbe da dire secondo gli slogan anche più recenti nessuno resta indietro in un certo senso in cui è garantita la libertà ma la libertà serve a compensare più che a allargare la forbice il divario eccetera ora questo secondo Rawls porta una società non solo che è più giusta in cui stanno insieme libertà ed eguaglianza perché le due cose possono convivere secondo Rawls ma in più allegare libertà ed eguaglianza è un terzo principio di cui ci siamo dimenticati dice Rawls che è la fraternità e qui Rawls si richiama alla rivoluzione francese 1789 vi ricordate il classico motto della rivoluzione francese libertà egalite fraternite libertà eguaglianza fratellanza ora questi tre principi sono principi santi secondo Rawls santi in senso laico cioè principi veramente basilari per una società giusta e spesso si è insistito sulla libertà spesso si è insistito in altre società sull'uguaglianza nessuno ha mai insistito sulla fratellanza si è proprio dimenticati della fratellanza invece secondo Rawls ciò che riesce a mettere insieme libertà ed eguaglianza è proprio la fratellanza perché ci si è dimenticati di questo valore perché si è ritenuto che fosse un valore privato affettivo tipico delle famiglie al limite ma non delle società in realtà Rawls dice se le nostre società vivessero veramente la fratellanza la libertà ed eguaglianza sarebbero più facili da far convivere perché pensate un po' a quello che accade nella famiglia dice Rawls cosa accade nella famiglia ci sono talenti diversi spesso c'è chi è più bravo chi è meno bravo chi è più fortunato chi è più sfortunato capita nelle famiglie però nelle famiglie le differenze si compensano nel senso che chi è pensate al genitore che è chiaramente più in forza lavora il ragazzino che è o il disoccupato appena laureato che non ce la fa il genitore lo aiuta lo sostiene usa le sue risorse per aiutare chi è più in difficoltà ok se uno nella famiglia si ammala e capita purtroppo mettiamo che nella coppia uno dei due si ammali l'altro non è che dice se tutto va bene ovviamente non è che ti dice ti abbandono ti lascio arrangiati se c'è fratellanza nel senso di amore in qualche modo familiare io che sto continuando a guadagnare uso i miei soldi per starti vicino per aiutarti per pagarti le cure eccetera nelle famiglie il principio di fratellanza è un principio fondamentale per cui le differenze ci sono ma vengono compensate le sfortune ci sono ma vengono compensate quindi i due principi di prima quello della libertà e quello diciamo così dell'uguaglianza vanno di pari passo se questa fratellanza ci fosse anche in termini più laici meno affettivi ma più sociali anche nella società secondo Rawls allora sì che questi due principi potrebbero convivere insieme e avremo una società più giusta che mette insieme il principio della libertà e il principio dell'uguaglianza ovviamente la società a cui sta pensando Rawls è una società diversa da quelle che spesso ci vengono prospettate no è una società che potremmo definire cooperativa ed antimeritocratica cosa vuol dire antimeritocratica perché è una società che non premia quello che va meglio quello che è più bravo quello che se lo merita come solitamente diciamo ma finisce per premiare quello che non se lo merita mi seguite cioè vi ho detto prendiamo il caso che io nasca intelligente e mio fratello nasca stupido di una famiglia io faccio carriera lui no però io dico beh faccio carriera ma mi prendo cura anche di te allora nella società sarà così uguale se io nasco intelligente il mio vicino nasce stupido io farò carriera mi arricchirò lui avrà difficoltà a trovare lavoro camperà di poco e allora io dico beh tranquillo pago le tasse con le mie tasse lo stato si occupa anche di te e ti dà una mano e ti solleva io perdo un po' del mio privilegio perché i soldi che ho guadagnato con la mia libertà li ne perdo una parte anche in gente l'idea di non c'è una tassazione anche relativamente alta e progressiva perdo un po' del mio vantaggio a vantaggio tuo quindi la mia libertà genera benefici anche per te bene questo chiaramente finisce per penalizzare me perché in una società in cui non ci fosse questo principio compensativo io continuerai ad arricchirmi sempre di più e tu continueresti ad impoverirsi sempre di più in una società che seguisse solo il principio di efficienza di prima di cui parlavamo prima la società dovrebbe dire non ti tasso a te che sei ricco perché tu generi ricchezza quello che a volte si sente è chiaro che questo sistema fortemente avverso al neoliberismo il neoliberismo ci dice esattamente il contrario il neoliberismo ci dice oggi non tassiamo i ricchi perché? perché se noi non tassiamo i ricchi i ricchi hanno più soldi da spendere generano ricchezza generano impresa e poi ci sono effetti positivi per tutti in realtà questo principio neoliberista tende dando grande peso alla libertà a creare divari sempre più grandi perché se io che sono già ricco intelligente e forte non vengo tassato in nessun modo continuo ad arricchirmi e chi è povero non ce la fa continua ad andare sempre peggio il principio di Ross è l'esatto opposto il neoliberismo dice è giusto che tu che guadagni soldi te li tenga è giusto che tu se sei intelligente venga premiato è giusto che tu che sei sano venga premiato Ross dice no è ingiusto che tu che sei intelligente tenga per te la tua intelligenza è ingiusto che tu che sei sano tenga per te la tua salute è ingiusto che tu che sei rico tenga per te la tua ricchezza la cosa giusta è ridarle agli altri meritocrazia vorrebbe dire premiamo chi se lo merita premiamo chi è più forte chi è più intelligente chi è più bravo l'antimeritocrazia di Ross dice non premiamo chi è più forte premiamo chi è più debole perché chi è più forte deve dare una parte della sua forza e chi è più debole capite? perché è antimeritocratico perché va contro il principio di meritocrazia in un certo senso in favore di una compensazione e vi dicevo anche è cooperativa perché ci dice una società in cui ognuno pensa a se stesso in cui ognuno dice io sono ricco e sono intelligente sono sano e penso a me stesso e senza prendermi cura di chi invece è povero malato eccetera è una società ingiusta quindi alla fine la giustizia come la intende Rawls prescrive la cooperazione prescrive la fraternità prescrive prendersi cura degli altri capite? prendersi cura in senso politico e sociale non vuol dire che devo andare a casa a fargli da mangiare vuol dire che io devo pagare le tasse devo collaborare col voto con la libertà politica eccetera a fare in modo che ci siano delle compensazioni solo in questo modo la società è giusta e sta in piedi e sta unita e si crea cooperazione e si crea unione altrimenti la società si sfalda da questo punto di vista le nostre società sono in grande crisi Rawls oggi direbbe che sono in crisi perché questo principio di cooperazione viene spesso disatteso per cui ognuno bada al suo merito al suo vantaggio eccetera e così la società si spacca in tronconi in un certo senso ora per chiudere siamo quasi in chiusura riportiamo un esempio di Rawls per capire poi concretamente come si applica questo principio di compensazione ed è un esempio che Rawls trae dall'economia in particolare della teoria dei giochi la teoria dei giochi è una dottina matematica una teoria matematica che viene poi applicata spesso in campo economico relativa poi a capire qual è il modo migliore per allocare le risorse a quello che dicevamo anche prima esempio poniamo di avere dei soldi da spendere dove decidere come spenderli dove darli come darli come non darli allora il principio che Rawls dipende è quello il cosiddetto maxi mean la regola del maxi mean è una delle possibili regole non è l'unica però Rawls esposa questa regola di allocazione delle risorse maxi mean è una parola che deriva da due parole latine che vengono contratte che è maximum minimum orum cioè il massimo dei minimi cosa vuol dire? vuol dire che quando dobbiamo decidere come ripartire le risorse che siano le attenzioni di una persona o i soldi da spendere o gli ospedali da costruire o quello che volete dobbiamo valutare a seconda delle decisioni che prendiamo e delle circostanze in cui ci troviamo ad agire gli esiti che possono venire fuori Rawls propone una tabella con esempio numerico casuale per far capire che ogni decisione in base alle varie circostanze può avere esiti diversificati vi faccio vedere la tabella di Rawls ad esempio decisione 1 prendo una certa decisione costruisco tre ospedali tutti in città allora circostanza 1 in Veneto mi dà un esito meno 7 cioè che so il numero di malati incurabili o che muoiono in ospedale meno 7 dato negativo peggiora di 7 casi rispetto all'anno prima circostanza 2 in Lombardia mi dà un più 8 circostanza 3 in Piemonte un più 12 esempio decisione 2 invece di costruirli in città li costruisco tutti in campagna allora se li costruisco su campagna in Veneto esito meno 8 in Lombardia 7 in Piemonte 14 perché poi le circostanze delle regioni sono variabili decisione 3 li costruisco né in campagna né in città li costruisco non lo so in periferia in Veneto da un esito più 5 in Lombardia più 6 in Piemonte più 8 ho fatto gli esempi casuali no però capite che ogni volta che noi dobbiamo prendere una decisione in base alla decisione che prendiamo e agli ambienti situazioni circostanze gli esiti possono essere diversi allora se io posso prevedere immaginiamo di poter prevedere gli esiti quindi avere stata bella già prima di prendere la decisione quale decisione prenderemmo allora secondo un principio efficientista io ad esempio prenderei quello che mi fa andare meglio il risultato più alto ad esempio una decisione 2 faccio vedere la tabella mi dà in Piemonte avevamo detto un esito 14 quindi grande efficienza anzi tra i più soldi del Piemonte che mi fa affrontare meglio le cose se invece io però applicassi il principio del maxi mini il principio del maxi mini è il principio di compensazione di prima cioè mi dice non guardiamo a dove otteniamo risultati migliori guardiamo al risultato più basso a seconda delle decisioni e scegliamo quale risultato più basso è il migliore tra quelli possibili allora guardiamo di nuovo la tabella tra le decisioni il risultato più basso è sempre il C1 la circostanza 1 è quella svantaggiata evidentemente il Veneto che avevo messo circostanza 1 è la regione più disagiata in questo caso prima decisione il Veneto va a meno 7 seconda decisione il Veneto va a meno 8 anche se il Piemonte va a più 14 il Veneto va a meno 8 terza decisione il Veneto va a più 5 il Piemonte non ha un grande slancio rimane a 8 però il Veneto va meglio allora da un punto di vista del Maximin bisogna scegliere la decisione 3 perché in questo caso la regione più svantaggiata ha l'esito migliore in questo caso la circostanza 1 quella più svantaggiata dà il risultato migliore poniamo anche che ci sia un meno 2 comunque rimane migliore la D3 poniamo anche che nella invece circostanza nella D2 il C3 non sia 14 ma sia 37 comunque per il Piemonte per il Maximin rimane preferibile la decisione D3 bisogna guardare semplicemente a quale è il risultato peggiore e scegliere il meno peggio sostanzialmente Maximin vuol dire questo scegli la tra le circostanze peggiori quella che dà l'esito meno peggiore degli altri e quella è la decisione da perseguire questo applicato alla società e quello che abbiamo detto fino ad adesso in fondo cioè tu poniti nella posizione originaria col tuo vedo l'ignoranza sai che puoi nascere ricco e in salute e intelligente puoi nascere povero ma intelligente in salute puoi nascere ricco ma malato e intelligente varie possibilità la peggiore possibilità possibile è che tu nasca povero scemo e malatissimo insomma può capitare purtroppo allora tu se razionalmente pensi potrei nascere qui 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 tutte le varie possibilità sceglieresti una società che premia molto chi nasce fortunato o preferiresti una società che salva chi nasce sfortunato visto che tu sai di poter nascere molto sfortunato dice Rose per un principio di precauzione per un calcolo razionale per una naturale avversione al rischio cioè tu sai che potrebbe andarti molto male allora fai in modo che quel mi potrebbe andare molto male sia il minor danno possibile cioè se proprio devo nascere sfortunato ignorante povero e malato spero di nascere farò in modo che la società sia fatta in modo che io possa nascere in una situazione in cui ci siano scuole che mi seguono comunque tanto mi stanno sotto e mi aiutano a migliorare un po' la mia condizione originaria che ci sia un sistema sanitario efficiente che sia gratuito e mi possa aiutare a superare le mie difficoltà di salute e che ci sia un sistema sociale che possa compensare la mia povertà con servizi gratuiti grazie alle tasse fatte pagare da chi è più ricco capite tutti noi se fossimo in quella condizione secondo Rose preferiremmo un sistema del genere dunque questo è il sistema giusto un sistema che compensa un sistema che segue il maximin quindi che massimizza la posizione peggiore non la posizione migliore il contrario dell'efficientismo il contrario secondo Rose del principio di efficienza di Pareto e che viene spesso seguito nelle società occidentali ecco questo era quello che volevo dirvi oggi per presentarvi due principi di giustizia di Rose e le loro applicazioni le loro conseguenze e tutto quello che vogliono dire poi concretamente vi ho fatto vari esempi abbiamo cercato anche di esemplificare molto anche forse andando un po' oltre gli esempi di Rose ma spero che in questo modo sia stata più chiara la lezione e che abbiate compreso il punto di vista di Rose che poi è stato anche molto criticato infatti non abbiamo finito il percorso perché oggi abbiamo finito sostanzialmente una teoria della giustizia ma nel prossimo video su Rose il terzo e ultimo dedicato a questo filosofo vorrei parlarvi delle critiche che le sue idee hanno ricevuto hanno ricevuto anche critiche i liberisti in genere e il neoliberismo sono molto critici verso queste idee di Rose e però anche come Rose ha in parte risposto ad alcune critiche insomma gli sviluppi successivi di queste idee lui dice inizio anni 70 poi c'è stato un dibattito molto ampio però si è molto dibattuto è chiaro che il modello che Rose emette è un modello di liberalismo sociale direi di liberalismo sì perché le libertà sono fondamentali ma che compensa molto quindi un modello simile a quello delle socialdemocrazie europee più che all'America che seguiva poco questi dettami tutto sommato ma vedremo parleremo nel prossimo video che sarà anche magari un po' più breve gli esiti le critiche gli sviluppi ecco per oggi ci fermiamo qui vi ricordo che in descrizione trovate come sempre i titoli che sono comparse qui mentre spiegavo trovate i link agli altri video che ho citato e trovate anche i modi per rimanere in contatto col canale quindi social network quindi newsletter settimanale gratuita che vi consiglio caldamente altri modi del genere in più sempre in descrizione trovate anche i modi per sostenere il progetto se vi piace quello che faccio potete fare donazioni potete comprare libri in descrizione c'è poi qualche bibliografia in ogni video potete comprare videocorsi per voi che vi piacciono e date una piccola mano anche a noi e poi se no c'è l'abbonamento al canale l'abbonamento è un modo per sostenere il canale con pochi euro al mese ricevete voi poi la taglia e in cambio ricevete poi video in anteprima diretti in esclusiva una chat apposita con quelli che sostengono il canale sono anch'io e poi anche dispense di filosofia nei livelli più alti dell'abbonamento quindi dateci un'occhiata se vi piacciono questi video ho finito ci vediamo presto per chiudere la pagina lunga anche su rose e poi per tanti altri video per tante altre lezioni di storia filosofia ed educazione civica ciao grazie a tutti Grazie a tutti.